Hanno detto sì davanti all'ufficiale di Stato civile grazie alla legge varata il 20 maggio dello scorso anno dal governo. Sono 23 le coppie lecchisi che si sono unite civilmente dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto che di fatto ha riconosciuto per la prima volta un valore giuridico alle coppie composte da due persone dello stesso sesso. A tirare le somme dall'approvazione della ricaduta della legge sul nostro territorio è l'associazione Renzo e Lucio. Al 31 marzo 2017 si legge in una nota le coppie che hanno celebrato l'unione civile in provincia di Lecco sono 20 secondo i dati della prefettura alle quali si aggiungono altre tre unioni registrate fra il mese di aprile e maggio. Sono quindi 23 le coppie che si sono unite in provincia e possono beneficiare di una legge che sostanzialmente parifica diritti e doveri fra le coppie omosessuali a quelli del matrimonio. Fra queste coppie si registrano tre trascrizioni di matrimonio celebrati all'estero, poche unioni di coppie composte da due donne ed una media di età fra i 34 e i 45 anni, parecchi comuni coinvolti dall'Abrianza fino alla Valsassina. Soddisfatto Mauro Pirovano, presidente dell'associazione Renzo e Lucio. 23 coppie per la sola provincia di Lecco è un dato importante se teniamo conto che siamo in un contesto dove la visibilità è per qualcuno ancora un problema. In questi mesi abbiamo anche osservato con piacere il forte accompagnamento a questi momenti da parte di amici, famiglie e conoscenti, una vera e propria festa. Una legge quindi che oltre a garantire diritti riesce anche a rompere pregiudizi e a generare un cambiamento della società. L'applicazione della legge, prosegue Pirovano, mette in atto un cambiamento culturale e sociale dimostrando che il Paese era ed è pronto a riconoscere il valore dell'Unione Civili. Paure e perplessità appartengono più alla classe politica che ai cittadini. Grazie. 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 Grazie.